e bella a tutti ragazzi oggi video che non ho niente qua davanti no no il video era dedicato a un vecchio video che ho fatto sulla ricarica della pod della elf bar 600 allora giustamente un commento ha detto che le batterie all'interno delle pod non erano batterie ricaricabili potrebbe anche essere vero in base a quale pod uno ha nel caso della mia pod io mi sono accertato che sia che era una batteria ricaricabile prima di tentare la ricarica però è doveroso dire che bisogna pressare la massima attenzione quando si fanno queste operazioni e se non siete in sicurezza non avete una minima cognizione di elettrotecnica di elettronica di elettricità e soprattutto se non sapete quello che state o come lo state facendo evitate di fare queste cose perché le batterie al litio purtroppo nella loro comodità sono pericolosissime e davvero rischiano di esplodere anche che sono batterie ricaricabili anche che sono batterie sicure ma sono batterie che sono in concentrato di energia e rischiano di sfiammare o esplodere con poco perciò nell'eventualità volete cimentarvi in queste cose mi raccomando fatelo con le dovute precauzioni e prima di fare quelle operazioni accertatevi di farle come si deve prima cosa se dovete ricaricare una batteria usate un caricatore che ve le mette anche in sicurezza questi caricatori se voi mettete una batteria con polarità invertite se il caricatore rileva che c'è qualcosa che non va o che la batteria non è alta alla ricarica si bloccano e evitano di erogare corrente alla batteria se si supera un dato calore anche all'interno si bloccano io qua ricarico decine di batterie al litio di questo tipo ricarico tante batterie al litio di questo tipo per questo tipo di batterie uso caricatori da banco che adesso cerco di farvi vedere uso questi caricatori dal banco usando tutte le massime precauzioni e tutta la massima sicurezza quando metterete a ricaricare una batteria al litio non lasciatela incustodita almeno nei primi minuti che la mettete in carica quando comincia la fase di ricarica accertatevi che la batteria non scaldi provate a vedere la temperatura io uso addirittura sensori di temperatura per vedere lo stato di temperatura della batteria che la batteria sale troppo di temperatura anche nei primi secondi o minuti ovviamente se non usate caricatori protetti staccate subito tutto ed evitate di somministrare energia una batteria che magari anche che è ricaricabile è danneggiata e non lo potete sapere perciò questo era solo per dirvi di usare il massimo dell'attenzione e soprattutto prima di cimentarvi in cose che non sapete fare uno non lo fate per niente due se ne documentatevi prendendo i codici seriali su ogni batteria c'è un codice seriale solitamente inserendolo su internet vi dice che tipo di batteria è che tipo di ricarica vuole che voltaggio di ricarica vuole che vi dice tutto perciò evitate di prendere un caricatore qualsiasi tipo come fanno vedete prende un caricatore da un cellulare o un caricatore da un ATX da un computer attaccarlo direttamente ai poli della batteria non sapendo nemmeno che cazzo di estate roga evitate di farse stronzate se lo volete fare usate caricatori che hanno una sicurezza o fatelo con la dovuta attenzione perché sinceramente non mi va che qualcuno si fa male soprattutto per qualcosa che ho detto io e soprattutto anche per qualcosa che magari è stato detto a cazzo perché dei video idioti su youtube o su tutte le piattaforme ne esistono due milioni e tanti anche sono fake che per prendervi per il culo perciò mi raccomando se lo sapete fa provateci se non lo sapete fa o non avete la minima cognizione evitate di farlo un saluto un abbraccio e alla prossima